I fratelli di Italia in piazza oggi, a fianco degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti, delle partite IVA, degli imprenditori che dicono no all'obbligo della fatturazione elettronica. Un altro modo dello Stato italiano per fare cassa su chi vuole lavorare, semplicemente per pagare i provvedimenti ridicoli della manovra di bilancio. Chiediamo al Governo di ritirare l'obbligo della fatturazione elettronica dal gennaio 2019, tagliando la spesa pubblica, di schierarsi a fianco delle imprese invece di fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole lavorare.